Il diritto umano è la felicità. L'uomo è il diritto umano. Quattro soldi per andare giù, bere un caffè, scoparsi magari un prese, ma chi te ne prega? La felicità vuol dire il benessere mentale, la filologia mentale, vuol dire un po' di romanticismo che ci manca. Poi quelle piccole cose che si amano tutti i giorni, il gusto del quotidiano, no? E si può ancora essere felice o no secondo lei? Sempre, in ogni momento, anche durante l'anestesia perché grazie a Dio non ci pensa più. E c'ha una ricetta per esserlo? Sì, la felicità. E' un po' un cane che si morde la mano. Più si è felice, più si diventa felice. E appunto. Ma sai come io penso a te cosa mi è capitato? Ma la felicità, l'espansione, un pochino di sana ignoranza. Non vogliamo capire tutto, no? Ma sai come io penso a te cosa mi è capitato? Qua sei. Io penso a te cosa non è capitato.